Il professor Scarpa, esperto in economia dell'ambiente di Waikato Management School in Hamilton, New Zealand, presenta alla Facoltà di Economia Torvergata le metodologie e risultati dell'indagine svolta. La ricerca si orienta alla determinazione del servizio idrico della regione del Yorkshire, una regione al ciglio dei 1,5 milioni di abitanti. Nel seminario a cura del CEIS, il professor Scarpa punta ad analizzare come passare da un mercato guidato dalla produzione ad uno guidato dalla domanda, il quale si applica ad un'azienda che mantiene un monopolio di mercato delle acque pubbliche. Questa è un'analisi costo-efficienza per gerarchizzare gli investimenti ed il processo segue in tre punti. Primo, definire i fattori di miglioramento, secondo, un questionario e terzo, l'applicazione del logic. Quindi il professor Scarpa ha ottenuto l'innalzamento dei prezzi delle bollette, offrendo servizi migliori e comuni a tutti.